a patrizia simona beba e beatrice benedicta benedicta vorremmo dare anche noi una piccola risposta perchè anche noi adesso faremo un piccolo balletto abbiamo deciso per dare una risposta a Russell Russell e alle sue girls visto che adesso c'è uno stacco una pausa come si dice di pubblicità se possiamo vedere i miei boys oltre alle selle girls di Russell 5,6,7,8 e adesso pubblicità